E' di un morto e un ferito il tragico bilancio dell'esplosione avvenuta oggi intorno alle ore 13.30 nella frazione di Caprafico a Teramo, nei pressi di una fabbrica di fuochi d'artificio. Più precisamente l'incidente si è verificato in un'area esterna di prova della ditta di Blasio Fireworks. I vigili del fuoco appena giunti sul posto hanno verificato che nel terreno agricolo, ad alcune centinaia di metri dalla fabbrica di materiali esplodenti, si era verificata un'esplosione di un ordigno che ha coinvolto due dipendenti dell'azienda e provocato l'incendio di alcune rotoballe. L'onda d'urto prodotta dall'esplosione ha investito i due operai, uno dei quali 43enne, è rimasto leggermente ferito, mentre l'altro Dino Trignani, 62enne di Castilenti, è deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate. Secondo una prima ricostruzione, i due dipendenti stavano provando due ordigni, il primo non ha avuto problemi esplodendo regolarmente, il secondo invece ha ucciso il 62enne. I vigili del fuoco del comando provinciale di Teramo, subito intervenuti, hanno provveduto a spegnere l'incendio. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Teramo per tutti gli accertamenti del caso, per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e chiarire cosa abbia provocato l'esplosione.